Psyco Fox Adesso vi mostro proprio tutta la strada partendo dall'inizio del gioco fino ad arrivare a questo warp In Psyco Fox per attivare questi passaggi bisogna riuscire a trovare nel cielo dei buchi Sparando il nostro uccello possiamo bucare il cielo in alcuni punti Psyco Fox Se andiamo tutto a destra troveremo un altro passaggio Ma il più importante è questo, quello che vi porta al livello 7.1 Grazie per la visione e se il video vi è piaciuto e vi è stato utile vi chiedo un bel like e una bella iscrizione al canale Ciao Ciao